Arrestato e posto ai domiciliari un docente dell'Ipsia di Trebisacce. L'uomo è ritenuto responsabile di una serie di episodi di molesse sessuali posti in essere dal 2018 ad oggi, ai danni di giovani studentesse, prevalentemente di Sibari, tutte minorenni all'epoca dei fatti, le quali segnalavano alcuni episodi ritenuti molesti al dirigente scolastico, che da noi avvicinato non ha inteso rilasciare dichiarazioni. Assunte ulteriori informazioni interne, il Preside trasmette l'articolato e complesso fascicolo al Consiglio di Disciplina e all'autorità scolastica regionale. Secondo quanto trapela, il dirigente scolastico lo avrebbe invitato a mettersi in aspettativa in attesi di ulteriori sviluppi, ma l'indiziato si sarebbe opposto, facendosi fotografare davanti alla scuola come atto di assoluta innocenza. A questo punto il Preside decide per l'invio degli atti in procura. Da qui l'avvio delle indagini. Il docente e persona in vista e stimata nella comunità di Trebisacce aveva espresso la volontà di candidarsi a sindaco alle elezioni amministrative del centro ionico cosentino. Ha svolto ruoli importanti del mondo dell'associazionismo, della cultura e della vita politica. Ora è ai domiciliari. Matteo Lauria per la Cinews 24.